Insomma questo selfie di Renzi come l'è sembrato? Il discorso l'ha convinta? No, è stato un non discorso, probabilmente era stanco, però è stata una pagina triste perché io ho sentito alcuni colleghi europarlamentari non italiani, non abituati ai selfie di Renzi, alle battute, alla filosofia, a Dante Alighieri che non avevano capito che cosa ha detto, perché qua di solito si è più concreti, si parla di banca, si parla di impresa, si parla di artigianato, si parla di agricoltura, si parla di lavoro, di immigrazione, ha detto niente divertendosi ma non divertendoci. A voi però manca ancora un partito per fare un gruppo, siete rimasti tra i non iscritti, cosa succede? Succede che abbiamo qualche poltrona in meno, il gruppo lo faremo a settembre, però non ho chiesto i voti alla Lega per qualche vicepresidenza di commissione, ho chiesto i voti alla Lega per fare delle battaglie che faccio con o senza gruppo. Lo faremo a settembre vuol dire che troverete un altro partito da qui a settembre? Anche più di uno, visto che già si stanno sfilacciando i gruppi che si sono formati adesso perché sono evidentemente incoerenti, l'abbiamo visto anche l'unione fra i grillini e gli inglesi penso che duri qualche quarto d'ora, non di più. Detto questo, le nostre battaglie io da settimana prossima sono in una commissione importante quella che si occupa di commercio internazionale per difendere il Made in Italy da tutte le taroccature, da tutte le invasioni di altri tipi di prodotti e quindi la battaglia la faccio anche senza gruppo. Per quanto riguarda invece questo scontro con la Germania, Weber che continua ad insistere, ha insistito appunto sulla austerità e Renzi che ha attaccato duramente c'è chi ipotizza adesso anche un problema sulle larghe intese, sul nome anche di Juncker. Insomma, lei come lo vede questo scontro? Beh, ci è arrivato anche Renzi. Che la Germania in questi 12 anni di euro ci abbia straguadagnato mentre tutti gli altri ci abbiano perso, l'hanno capito anche i pali della luce. Ci è arrivato Renzi che però ieri ha votato Schulz, presidente del Parlamento Europeo che è un socialista tedesco, che fino a ieri è stato assolutamente complice delle scelte della Merkel e delle scelte tedesche che hanno fatto il loro interesse e non quello dell'Europa. Quindi mi sa tanto di risveglio tardivo e furbesco. Lei ha criticato Renzi anche per non aver parlato dei Marò e anche su tanti altri temi? Non ha parlato sostanzialmente di nulla. Ha parlato sì delle donne maltrattate in Pakistan, è giusto occuparsene. Si è dimenticato di due suoi concittadini detenuti in India da due anni. Sull'immigrazione ha detto che l'Europa deve fare qualcosa ma sono ormai due anni che l'Italia dice che l'Europa deve fare qualcosa e l'Europa se ne frega, quindi non gli diciamo la competenza è tua, ferma Mare Nostrum, punto. Inizia a fermare le navi e poi vediamo se l'Europa si sveglia o no. Quindi ha detto poco e niente, probabilmente il meglio lo ha tenuto per Bruno Vespa e quindi l'Aula dell'Europa non era abbastanza importante come Bruno Vespa.